Nel quadro a tinte fosche della sanità calabrese si distingue una eccellenza. È il reparto di oncologia dell'ospedale San Francesco di Paola, struttura sanitaria al centro dell'attenzione mediatica per ben altri e più tristi fatti di cronaca. Qui giungono pazienti da tutte le altre province della Calabria e persino da fuori regione. Il perché di questo successo lo abbiamo chiesto al primario del reparto l'oncologo Gianfranco Filippelli. La qualità e la professionalità degli operatori del centro oncologico qui presso l'ospedale di Paola. C'è un gruppo di medici specialisti in oncologia che è veramente di primo piano, punto di riferimento di tutti i grossi centri di oncologia sul territorio nazionale. Con un gruppo infermieristico altrettanto adeguato a questa problematica così grossa che è l'assistenza ai pazienti oncologici. Storia di una eccellenza dunque che deve qualcosa a quanto dovuto dalla direzione sanitaria e ben più al contributo dei privati in termini di dotazione tecnologica. Grazie alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori alla Banca Mediocrati il reparto infatti è dotato di due ecografi di ultima generazione di cui uno multidisciplinare e uno che consente esami oncologici con mezzo di contrasto. L'ASP dal canto suo ha promesso di dotare oncologia di attrezzature per applicare la tecnica AIFU per l'eliminazione delle metastasi attraverso gli ultrasuoni. Osservando le attrezzature unitamente all'ordine che regna nella corsia al primo piano del San Francesco viene da chiedersi perché questa struttura operi in regime di The Hospital. Nell'apposito laboratorio vengono preparati composti medicinali che vengono poi somministrate ai pazienti in stanze che sarebbero idonee anche per l'adeggenza. Misteri della riorganizzazione. Speriamo che sia approvato prima possibile il nuovo atto aziendale dell'ASP di Cosenza che prevede per il nostro reparto l'ampliamento sia come personale ma soprattutto strutturale con l'apertura finalmente dei posti letto per i pazienti oncologici. Questa è una grossa lacuna se si pensa che nell'intera ASP di Cosenza non c'è un solo posto letto dedicato ai pazienti oncologici. Infine a pochi giorni dalla celebrazione della giornata mondiale contro il cancro della Lega Italiana per la lotta contro i tumori un pensiero sull'importanza della prevenzione. Ancora oggi prevenire è sicuramente la cosa che tutti noi dobbiamo fare.